Ed entrare in quella che era una volta la chiesa dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio è davvero un percorso ad ostacoli perché troviamo vetri ovunque, rifiuti di ogni genere, del resto tutte le vetrate sono state danneggiate anche le porte sono completamente aperte quindi può entrarci chiunque per non parlare di quello che si trova dentro rifiuti di ogni genere, le panche che prima ospitavano i fedeli sono state anche in precedenza bruciate e di qui l'appello di salvare almeno il salvabile e cioè i cittadini chiedono di salvare almeno il bellissimo crucifisso che è ancora dietro l'altare Colle Maggio, l'area dell'ex ospedale psichiatrico in particolare, giace da anni nell'abbandono tutti sperano che il percorso di riqualificazione che vedrà anche la presenza del conservatorio in quella che era l'ex Accademia dell'Immagine possa partire il prima possibile, sono previste anche scuole lì, atti vandalici, strutture abbandonate usate anche per lo spaccio come pure le forze dell'ordine hanno potuto dimostrare nel tempo ora sotto la lente di ingrandimento c'è finita la chiesa non utilizzata che si trova nell'area sul web si è diffuso un appello, quello di salvare almeno il crucifisso della chiesa della Turrisse Burnea edificio che versa in condizioni davvero pietose, meta spesso di vandali ma ora i promotori dell'appello social chiedono che almeno si salvi il grande crucifisso dietro l'altare questa chiesetta per la verità è spesso salita agli onori delle cronache ultimamente tempo fa alcuni teppisti avevano dato fuoco alle panche della chiesa del resto in quell'area c'è un'assoluta mancanza di controllo la chiesa fu costruita nel 1967, era destinata in passato a utenti e personale dell'ex ospedale ora giace in condizioni che pessime è dire poco panche bruciate appunto, rifiuti, tutte le vetrate rotte, candele sull'altare scritte di vario genere sui muri per non parlare delle buste piene di siringhe lasciate nei pressi un vero peccato per un edificio che è stato di culto, vetri ovunque poi sul recupero dell'area poco si sa, nel senso che le ultime notizie risalgono alla fine dello scorso anno quando la giunta aveva approvato un protocollo di intesa con la ASL che avrebbe ceduto con permuta al comune se edifici per il progetto del parco della Luna sembra più una mossa per non perdere i fondi, in realtà ben 10.000 euro, poi non se ne sa più nulla nell'ultima commissione dell'edilizia scolastica si è appreso pure che nella zona ma non nelle palazzine esistenti, bensì nell'area verde sottostante dovrebbero andare delle scuole, la Carducci, una scuola elementare e forse un istituto superiore ma al momento non ci sono a quanto pare degli atti prodotti ufficiali insomma la zona continua a essere preda di vandali e degrado assoluto con buona pace di tanti dipendenti ASL che ancora ci lavorano